Il caso è esploso dopo i due murales dedicati a Ugo Russo e Ciro Caiafa, 15 e 17 anni, uccisi durante due tentativi di rapina, vite spezzate tragicamente. Ma sulle pareti dei vicoli su cui si allunga l'ombra della camorra danno un segnale sbagliato, diverso da quello che potrebbero dare, e la scia di sangue a Napoli è impressionante, i volti di giovani vittime innocenti. Il murale per Caiafa è stato cancellato a febbraio ed è partita stamattina la rimozione di murales e altarini che celebrano eventi o persone riconducibili alla criminalità organizzata. A San Pietro, a Patierno, zona nord della città, cancellate con il supporto di agenti e militari, scritte che negiavano a Benni. Benvenuto Gallo, 24 anni, ferito a morte con un colpo alla nuca alle 4 del mattino del 6 novembre scorso. Il giovane era già noto alle forze dell'ordine. Un altarino che gli avevano dedicato nel quartiere era stato rimosso. La prefettura annuncia che l'operazione per il ripristino del rispetto della legalità, decisa dopo la riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico, andrà avanti nei prossimi giorni. Intanto a San Pietro, a Patierno, il murale di Iorit, dedicato a Nino D'Angelo, vandalizzato a febbraio per ritorsione dopo la cancellazione di quello dedicato a Ciro Caiafa, torna a risplendere dopo il restauro e sotto la firma di Iorit compare, come segnale di speranza, quella di tutto il quartiere.